Una volta nella foresta, Matilde si dimenticò di essere incinta. Portò il cavallo al piccolo galop e cominciò a cavalcare, alla sua solita andatura spericolata. «Matilde, rallenta!» Patrizio stava sudando. Malgrado l'aria frizzante di inizio autunno, aveva un brutto presentimento sin da quando aveva visto l'espressione dell'amica nelle stalle. Sebbene sapesse che non avrebbe mai fatto del male di proposito a se stesso e al bambino, si rese conto che Matilde si stava comportando in modo sconsiderato. Matilde tirò le redini e rallentò scusa. «È solo che è così bello essere di nuovo fuori!» Inalò l'aria profumata dei grandi pini delle ardenne. «Ah, erano vicini ormai!» Quando superarono lo stagno dove volava il cigno solitario, Matilde rimase a bocca aperta per lo stupore. Davanti a lei c'erano gli archi appuntiti della navata, colonne di marmo dorato scintillavano alla luce del sole. Era assolutamente magnifico! «Oh, Patrizio, guarda! Guarda che cosa abbiamo fatto!» Scese da cavallo con cautela aiutata dall'amico e si incamminò verso il maestoso edificio. Era proprio come lo aveva sognato. Un monumento eccezionale alla via dell'amore. «Vieni, devi vedere una cosa!» Patrizio era emozionato. Ora che erano arrivati sani e salvi senza che Matilde sembrasse affaticata per il viaggio, in realtà sembrava più viva di quanto l'avesse mai vista dall'inizio della gravidanza. L'aiutò a barcare la soglia della grande camera che conteneva il rosone a sei petali. Matilde vi si fermò davanti e pianse. Quando finalmente parlò, lo fece con un filo di voce. «È perfetto! Proprio come l'avevo sognato!» La condusse allo scriptorium dove i tre monaci calabresi, due anziani e uno novizio, lavoravano alla trascrizione del libro rosso. Matilde non li vedeva da quando erano arrivati in Lorena e fu lieta di ritrovarli. Anche se i frati erano visibilmente sorpresi di vederla, l'accolsero con affetto e la invitarono a riposarsi mentre loro preparavano un pranzo a base di pane, birra annacquata e formaggio, tutte cose che producevano nell'abazia. Orval era già sulla buona strada per diventare una comunità prospera e autosufficiente. Matilde non avrebbe potuto essere più lieta di quei progressi. Dopo aver pranzato ed essere stata aggiornata dai monaci calabresi sullo stato delle trascrizioni, che era molto più avanzato di quanto immaginasse, Matilde era ansiosa di vedere il simbolo sacro. «Portami al labirinto!» ordinò a Patrizio che ubbidì umilmente. Era magnifico! Patrizio aveva lavorato con mastri e muratori per oltre un anno per modellare centinaia di pietre da selciato che erano state disposte con cura nel terreno a una a una per creare i contorni degli undici cerchi. Al centro campeggiava una rosa perfetta, contornata da rocce di colore chiaro per dare maggiore risalto. Era un capolavoro. «Guarda qui!» Patrizio la condusse verso l'entrata, che era rivolta esattamente a ovest. Fece all'incirca dieci passi dall'entrata prima di inginocchiarsi e mostrarle l'anello di ferro inserito nel terreno. «Per Notre-Dame, la nostra signora del labirinto!» Matilde era raggiante mentre si staccava alcune ciocche di capelli e le legava all'anello con il nodo nuziale. Baciò Patrizio sulla guancia e lo ringraziò prima di intraprendere la tanto attesa passeggiata nel suo personale labirinto al centro del quale l'attendeva il divino. L'esperienza di Matilde nel labirinto fu splendida, sebbene sconcertante. Ebbe una visione di se stessa in Toscana con con il vescovo Anselmo e Isabella e qualcun altro. Un uomo forte e sorprendente che non riconobbe. Trovò bizzarro il fatto che non sembrava molto più vecchia. Di certo se la Toscana era nel suo futuro doveva essere un futuro non molto lontano. Goffredo non le avrebbe mai permesso di viaggiare quando fosse arrivato il bambino. Poi intravide un'altra immagine, un'immagine di Lucca nel periodo natalizio. Era fuori dalla cattedrale di San Martino, la sua cattedrale, ed era felice in entrambe le visioni, felice in modo quasi incontenibile. Quella felicità era possibile? Quali momenti del futuro aveva intravisto? Forse quello che stava vedendo era solo il sogno della sua anima, piuttosto che uno scorcio della realtà che l'aspettava. Fu sconcertata dal fatto che non vide nessuna immagine di suo figlio, neppure sentiva il bambino che le si agitava nel ventre. Forse la provvidenza non voleva che vedesse il figlio prima che nascesse. Patrizio che aspettava Matilde fuori dal labirinto cominciava a preoccuparsi. Il tempo passava e se non fosse uscita subito sarebbe stato impossibile tornare a Verdun prima che facesse buio. Chiuse gli occhi e pregò che uscisse al più presto. Dovette invece aspettare ancora a lungo prima che l'amica finalmente riemergesse senza fiato a causa delle visioni che aveva avuto. «Tilde, non c'è tempo, dobbiamo prendere i cavalli adesso, mi racconterai strada facendo». Matilde annuì, guardando il cielo e rendendosi conto con trepidazione che si era fatto molto più tardi del previsto. Patrizio l'aiutò a montare e la seguì passo passo mentre cavalcavano alla volta di Verdun. Era autunno ormai e le giornate si stavano accorciando. Matilde doveva fare una scelta, accelerare il passo e sfruttare la luce del giorno il più possibile o mantenere un'andatura lenta e costante rischiando però di essere colta dal buio. optò per la prima e spronò il cavallo al piccolo galoppo. «Oh, che Dio ci aiuti entrambi!» borbottò Patrizio mentre cercava di stare al passo. Se fosse scritto nel suo destino o fosse stato causato dalle azioni dettate dal suo libero arbitrio, Matilde non lo avrebbe mai saputo, ma la luce sempre più fioca e la velocità eccessiva per il vecchio cavallo contribuirono a una combinazione fatale. l'animale mise il piede in fallo e inciampò. Se fosse stata più stabile, Matilde avrebbe potuto evitare la caduta con un'atletica capriola e cavarsela la peggio con qualche livido, ma il suo corpo, reso goffo e sbilanciato dalla gravidanza inoltrata, non si sposava con le circostanze in cui si trovava. Matilde fu sbalzata di sella e atterrò bruscamente su un fianco. Subito dietro di lei, Patrizio gridò dalla paura e dall'angoscia, saltò giù dal cavallo e corse da lei, sollevato nel vedere che sebbene fosse priva di sen si respirava. Cercò tracce di sangue, ma non vide alcun segno evidente di lesioni che potessero mettere a repentaglio la sua vita. Prese la pesante gualdrappa di lana del suo cavallo, coprì l'amica e pregò per lei con un fervore che non aveva mai avuto in vita sua. Rimontò in groppa l'animale senza sella e corse al palazzo di Verdun per chiedere aiuto, galoppando come se il diavolo lo stesse inseguendo. Il dolore che le attraversava l'addome era quello di dieci spade roventi che la trafiggevano da parte a parte. Stava riprendendo conoscenza, ma la sofferenza era tale che avrebbe preferito continuare a fluttuare nel delirio. Un altro spasmo lancinante, poi un fiotto di fluido caldo le coprì le cosce. Aveva gli occhi aperti adesso e poteva vedere che si trovava nella sua camera da letto con due spie di Goffredo, una da un lato e una dall'altro del letto. Levatrici. La più giovane non era tanto male, si chiamava Greta ed era l'unica fra il personale di Goffredo a essersi sforzata davvero di mostrarsi cortese con la duchessa. La giovane asciugò il viso a Matilde con un panno fresco e le disse amorevolmente in tedesco che andava tutto bene, che era a casa. La più anziana non era affatto così gentile, impartiva ordini con fare severo alle altre persone nella stanza e pungolava in continuazione il ventre di Matilde. «Spingete!» ordinò in tono brusco. «Questo bambino deve nascere subito, se vogliamo avere qualche speranza di salvarlo!» Matilde poteva soltanto immaginare quale fosse il resto della frase, perché la levatrice lo bofonchiò sottovoce in un tedesco rabbioso. Di certo era un'imprecazione contro la malvagità che aveva indotto la duchessa di Lorena a mettere in pericolo il futuro erede del duca. Matilde spinse, non aveva altra scelta, la pressione sull'addome era insopportabile e con uno strano schiocco e un'altra fitta lancinante sentì il bambino passare per il canale del parto e scivolare tra le mani della levatrice in attesa. Era troppo presto e lo sapevano tutti, non potevano esserci esiti felici in quella camera. Matilde era sconvolta e sfinita dal dolore e dalla paura, ma era abbastanza lucida per preoccuparsi. Aspettò nel silenzio che seguì, mentre la levatrice anziana ripuliva la creatura dal sangue. Una femmina. Non c'era alcuna emozione in quell'annuncio e poi all'improvviso si udì un timido vagito. Matilde ansimò, possibile, la sua bambina era viva. Cercò di mettersi seduta, ma la levatrice più giovane le disse con dolcezza di restare giù. La più anziana, malgrado la sua rozzezza nei confronti di Matilde, era incredibilmente tenera con la neonata. La massaggiava delicatamente e le parlò sottovoce per tutto il tempo. Ordinò in malomodo alla ragazza, vai a chiamare il prete. Dopo averla avvolta in una coperta di lana candida, la vecchia mise la neonata sul letto accanto alla madre. È viva, disse la donna. L'emozione era sparita di nuovo dalla sua voce e dal suo contegno. Ma non per molto. È troppo piccola e i polmoni non le funzionano bene. Morirà prima di domani mattina. Prima ancora che il padre possa vederla. Questa era un'accusa bella e buona. Dovete darle un nome di modo che il prete la possa battezzare e la sua anima non si perda. Un nome cristiano. L'enfasi sul cristiano era chiara. La levatrice non avrebbe permesso che quella strega condannasse la figlia del duca più di quanto avesse già fatto. Matilde dovette appellarsi a tutte le sue forze, ma alla fine riuscì a sollevarsi e a prendere fra le braccia il fagottino. La bimba era così piccola che non sembrava vera. Era perfetta, solo in miniatura. Non c'era traccia della malformazione congenita del padre. In realtà l'unico tratto che Matilde riconobbe fu la graziosa fossetta sul mento uguale a quella di sua madre. E anche se sulla testolina c'era solo una leggerissima peluria, Matilde notò che era di un rosso intenso. Per un istante la bambina incrociò i suoi occhi e Matilde fu certa che la stesse guardando. Fu brevissimo, eppure vi fu un momento di intesa e di riconoscimento, uno scorcio dell'anima di quella bambina venuta al mondo da così poco tempo. In quell'attimo straziante furono legate, madre e figlia, e Matilde ebbe la certezza che le si sarebbe spezzato il cuore. Era stata lei a causare quella tragedia, facendo del male alla sua preziosa e innocente bambina. Pregò, pregò di essere perdonata. Ben presto arrivò il prete, l'arcigno confessore di Goffredo che disapprovava apertamente Matilde, asperse d'acqua santa la bambina in gran fretta, come se fosse convinto che sarebbe morta da un momento all'altro. Le avete dato un nome cristiano? Matilde sfiorò la fossetta sul mento della bambina. Anui leggermente. Sì, la chiamerò Beatrice Maddalena. Il prete la guardò con disappunto, ma non disse nulla. Battezzò la neonata e le diede l'estrema unzione, il tutto nel giro di pochi attimi. Uno strano sacramento, di nascita e di morte allo stesso tempo. Quindi lasciò la stanza senza degnare Matilde di uno sguardo. Matilde avvicinò la bimba al petto e la cullò per il resto della sua breve vita. Non conosceva Ninenanne, così la bambina esalò gli ultimi respiri, ascoltando il pianto della madre inframezzato ai versi dell'unica canzone che le aveva mai recato conforto. Quella francese sull'amore. Matilde stava soffocando. Aveva sul volto qualcosa che non le permetteva di respirare. Si dibatté per liberarsene, ma senza successo il suo aggressore era più forte di lei, visto soprattutto lo stato di debolezza in cui si trovava. Proprio quando era sul punto di perdere conoscenza, udì la voce di un uomo che gridava allarmato. Ci fu una colluttazione nella camera da letto e si sentirono delle grida. In tedesco poi il cuscino le fu tolto dalla faccia. Boccheggiando, Matilde cercò di trovare un senso all'accaduto, malgrado lo stordimento e la vista annebbiata. In piedi accanto a lei c'era il gobbo con un cuscino in mano, lo strumento che avrebbe dovuto darle la morte. Ma non era stato lui ad aggredirla. Contro ogni aspettativa sembrava che Goffredo fosse il suo salvatore. A tentare di ucciderla invece era stata l'allevatrice anziana che fissava Matilde con odio. La donna le sputò addosso. «Demonio! Strega assassina! Hai ucciso tu la bambina e come se le avessi tagliato la gola!» «Basta!» Goffredo si sarebbe occupato dell'allevatrice più tardi. Non poteva permettere che venisse commesso un omicidio nella sua camera da letto, anche se quel gesto sarebbe stato giustificato e la maggior parte della sua servitù sarebbe stata d'accordo. Mentre la vecchia usciva come una furia dalla stanza, Goffredo si avvicinò al letto. Matilde tentò di parlare, ma le parole non le uscirono di bocca. Il gobbo la guardò, spietato e pieno d'odio. «Non ringraziarmi per averti salvato la vita. Non è per a rischio la mia anima per una figlia femmina, permettendo che si commetta un assassino in casa mia. Ma devi sapere che se fosse stato un maschio avrei lasciato che l'allevatrice ti uccidesse». Doveva andarsene di lì, all'istante. Matilde era convinta che finché fosse rimasta a Verden la sua vita sarebbe stata in pericolo. Tutti in quella casa erano fedeli al gobo e tutti la credevano una strega assassina che aveva ucciso di proposito sua figlia. Aveva trovato nell'allevatrice più giovane Greta una sorta di alleata, dato che la ragazza era andata a controllare se si stava rimettendo e le aveva portato un pezzo di pane bagnato nel vino anacquato. Matilde aveva convinto la ragazza a parlare con un misto di senso di colpa e corruzione. Stando ai racconti di Greta, nella casa si vociferava che la bambina fosse morta perché aveva gli stessi empi capelli rossi della madre. Senza dubbio sarebbe stata una strega e una maledizione per il buon duca. Il pericolo per la ducessa era imminente, tuttavia. Era stato accennato più di una volta che se Matilde fosse morta nei giorni immediatamente successivi sarebbe stato facile far credere che era accaduto per complicazioni legate al parto. Nessuno a palazzo avrebbe messo in discussione quella diagnosi, dopodiché Goffredo avrebbe ereditato tutte le proprietà di Matilde e sarebbe stato libero di prendere una moglie più giovane con cui ricominciare da capo. Matilde promise alla ragazza una parte dei gioielli che aveva nel suo scrigno se le avesse procurato un cavallo. Il fato volle che il fratello della giovane fosse uno degli stallieri e una collana di rubini degna di una regina fu sufficiente a fargli preparare un destriero per Matilde. Nel cuore della notte Matilde lasciò il palazzo attraverso l'ingresso posteriore riservato alla servitù senza portare nulla con sé e aspettò nelle stalle che arrivasse il ragazzo. Appena l'animale fu pronto uscì nell'oscurità pregando che la luna fosse abbastanza visibile da illuminarle il cammino e regolò l'andatura in modo tale da non ripetere quella caduta fatale. Devo restare qui Matilde tutto quello che abbiamo costruito è in pericolo il gobo non mi farà del male non oserebbe sono un monaco e questa è la casa di dio ricorda lui non hai idea di quello che stai creando realmente qui dentro nessuno ce l'ha per il resto della lorena stiamo soltanto costruendo il più bel monastero del nord europa è motivo di orgoglio per goffredo. Matilde annui pregando che fosse vero voleva che patrizio restasse lì a orval per completare l'opera per portare a termine la costruzione della loro grande visione che stava prendendo vita in modo così magnifico. Da diverso tempo ormai aveva trasferito tutti i fondi nei forzieri dell'abbazia controllati da patrizio in modo che goffredo non potesse arrestare il flusso di denaro nei loro progressi ma temeva che il marito avrebbe tentato di fare del male a patrizio in qualche altro modo per vendicarsi poiché lo riteneva complice del suo tradimento. Quello che mi preoccupa di più è il presente devi lasciare subito la lorena ma non puoi valicare le alpi da sola no ma mia madre ha una parente qui nei dintorni di stenè una cugina andrò da lei e le racconterò che cosa è successo da lì invierò un messaggero in toscano e chiederò che mandino una guardia che mi scorti in patria. Puoi fidarti di questa parente di tua madre? Non l'ho mai incontrata ma è una duchessa per diritto e ha dovuto tenere testa Enrico più di una volta perciò abbiamo molto in comune credo spero ma la verità è che non ho altra scelta non ti pare? Hai ragione buon viaggio sorella e contattami non appena poi da questo momento dovremo usare il codice SATORROTAS per comunicare. Il maestro aveva insegnato loro un metodo segreto per scambiarsi messaggi in codice quando erano bambini. Il codice esisteva sin dagli albori del cristianesimo a Roma quando la morte attendeva chiunque venisse scoperto a professare la religione cristiana. Era grazie a quel metodo che i primi proseliti riuscivano a comunicare in segreto. Per i giovani Matilde e Patrizio era stato un fantastico gioco mandare messaggi nella strana sequenza di lettere ai numeri disposti dentro il quadrato magico. Adesso serve stato usato ancora una volta nel serio tentativo di preservare il vero cristianesimo e di assicurare l'incolumità a Matilde. La provvidenza si prende cura dei suoi figli e delle sue figlie. Il maestro gliel'aveva detto in molte occasioni e lei sapeva da sempre che era vero. Quando Matilde si era trovata nel disperato bisogno di un aiuto divino questo era infallibilmente arrivato. Adesso la volontà divina si manifestava nella persona della cugina di sua madre Giselda che si chiamava così in onore della regina che aveva cresciuto Beatrice quando era rimasta orfana. Sembrava che forze e grazie seguissero quel nome all'interno della loro famiglia. Essendo una donna eccentrica e istruita Giselda era disgustata e offesa dalla dissolutezza e dall'avidità di Enrico IV che aveva usurpato un po' troppe volte i territori che lei aveva ereditato. Re o non re, lei era una discendente diretta di Carlo Magno e meritava un trattamento migliore di quello che stava ricevendo da quell'immorale villano arricchito. L'arrivo di Matilde alla sua porta era stato come la manna dal cielo e ben presto le due donne avevano instaurato un ledame cospiratorio. Matilde aveva promesso appoggio dalla Toscana quando e se fosse stato necessario per difendere i territori di Giselda e la donna in cambio. Le aveva fornito un alloggio sontuoso, dottori competenti e una piacevole compagnia. Aveva anche inviato il suo messo più efficiente a Mantova. La scorta toscana impiegò alcune settimane per arrivare in Lorena, dandole tutto il tempo di guarire. Le serviva del tempo per elaborare il lutto, per superare il logorante senso di colpa e il trauma delle terrificanti conseguenze verificatesi a Verdun. L'orecchio compassionevole di Giselda e la pace della tranquilla solitudine alimentarono di nuova forza l'animo di Matilde, mentre i medici esperti di sua cugina aiutavano il suo fisico a rimettersi in sesto prima che lei tentasse di attraversare le Alpi con l'inverno che si avvicinava. Quando finalmente vennero avvistati i toscani, il sole che scintillava sulla chioma fulva del gigante Con, che era venuto a prenderla per riportarla sana e salva a casa, Matilde era pronta per il viaggio.